Bismillahirrahmanirrahim. Cominciamo con questa lezione molto importante, il condizionale semplice. Cominciamo con la forma generale dei verbi regolari. D'accordo? Abbiamo i verbi in are, ere e ire, come parlare, leggere, dormire. Come coniughiamo il verbo parlare nel condizionale semplice? Con io sarebbe io parlerei, tu parleresti, lui-lei parlerebbe, noi parleremmo, voi parlereste, loro parlerebbero. Passiamo al verbo leggere. Io leggerei, tu leggeresti, lui-lei leggerebbe, noi leggeremmo, voi leggereste, loro leggerebbero. La hornè, i verbi in are e i verbi in ere, è la stessa terminazione, erei, erei. La a qui cambia in e e la e qui rimane. E diremo io parlerei, del verbo parlare, leggere, io leggerei. Se passiamo al verbo dormire, i verbi in ire, cosa avremo? Avremo qui io dormirei, tu dormiresti, lui dormirebbe, noi dormiremmo, voi dormireste e loro dormirebbero. Ok, passiamo al verbo essere e il verbo avere, come si coniugano nel condizionale semplice? Abbiamo il verbo essere con io, io sarei, tu saresti, lui-lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Il verbo avere, con io, io avrei, tu avresti, lui-lei sarebbe, noi saremmo, voi sarebbero. Il oro avrebbero. Ma ti sta asidsduo bonos paassociare, ma ci penso alla forma generali, come si coniugano. Ora vediamo il verbo nel presente dell'indicativo, nel futuro, il rosso di Dima. Ora vediamo il condizionale semplice. Ora vediamo la forma generale dei verbi irregolari. Ok, la forma generale irregolare. Se abbiamo il verbo andare, con io, io andrei. Conto, tu andresti. L'abbiamo qui, ma sarrafci l'afjall, il fiall ma tutti i pronomi, ma كل d'amèr, ma anche l'intervento, c'è l'intervento. Hina عندك il tazkir. Per esempio abbiamo qui andare, sarebbe qui, io andrei, tu, tu andresti. Kharraj l'arrei, shuffta? Kharraj ha e ho mettere, resti, conto. E sarebbe, tu andresti. Lui, lei, andrebbe. Occhi. Adesso... Tu, tu, daresti Lui, darebbe Noi, daremmo Voi, dareste Loro, daremmo No, loro, darebbero Il verbo dire Ok, io, direi Tu, diresti يعni, inta t'abba' maia Utschufi hnei, fila, makane, ahmar, heda Munkan, eh, t'istifida Io, direi Tu, diresti, idoraia Lui, lei, direbbe Noi, diremmo Voi, direste Loro, direbbero Il verbo dovere Io, dovrei Lui Tu, dovresti Lui, dovrebbe Lei, dovrebbe Noi, dovremmo Du, voi dovresti Loro, dovrebbero Il verbo fare Io, farei Tu Kul, yalla Kul halt nafsi Kulhom ilko, ma bambia kabila Un, fut uagtik Tu lui lei noi bravi voi e loro bravi quindi non è usato perché non è successo il giallo e non è successo il suo tec ma tra già diremo qui io farei tu faresti lui farebbe noi faremmo voi fareste e loro farebbero il verbo potere io potrei e il verbo potere e il verbo potere e il verbo potere e il verbo potere bravo io tu lui bravo noi bravo voi loro Vedremo insieme Io potrei Tu potresti Lui potrebbe Noi potremmo Kali perclu xatit M1 Tuali futuro Tosbah futuro Il farhme bin Filla forma generale Dei verbi Tra il futuro E tra il condizionale Semplice Iasbah shuai Ani Lalu itzeker Del futuro Ilkul kamen Chilu mera wahda Tumsek hum Ok Voi Fares Voi Fares Potresti Potresti No Potresti Voi potresti Laha ma Tu Voi Nafs attariqa Ilnei Yagtalif Lui Tosbah e Adhoon ane te laahedt Ha sa Loro Potreppero Laha ma Lui Potreppe Loro potrebbero Hiya nafsa Ila anu Vif Esh Roo Bravi Anzon Kom la hatto Ha sa Il verbo Stare Alla tu Tabak Yalla Kulma Brava Io starei Tu staresti Lui starebbe Noi staremmo Voi stareste E loro Bravi Starebbero Passiamo Kulhasa Kulhasa L'infinito Bravi Abbiamo qui Venire N As Bha R E Volere N As Bha R Nessa Tarika Bravo Ma la cosa diremo con il verbo Volere Io vorrei Lui vorresti Lui vorrebbe Noi vorremmo Voi vorreste E loro vorrebbero Adholla Adholla Ankom Taafu Maani Hade L'afal Sa Il verbo Dare Aks Prendere Ya Ochuz Prendere Dare Io Ti Dire Ya Kul Dovere Yajibu Fare Yafal Potere Yastatia Stare Yabqa Venire Yaiti Volere Yurid Dicordo Passiamo Adesso A L'aham Schif Il Condizionale L'uso Del Condizionale Semplice Mata Yaka Istegden Il Condizionale Semplice L'uso Istegden Di che cosa Del Condizionale Semplice Il Modo Condizionale Akram Ayam Akhali Il Modo Condizionale Serve Principalmente Ad Esprimere Ma Oduna Prima Il Modo Condizionale Serve Principalmente Ad Esprimere Uno Un Desiderio Tut Un Consiglio Tre Una Richiesta Gentile Educata Quattro Quattro Informazione Incerta Hanna 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 Arba Estegden 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 Un Un Prima Un Desiderio Un Desiderio Un Esempio Vorrei Tanto Andare A Miami La prossima estate Vorrei tanto andare a Miami La prossima estate Alla prossima estate Arrgatti dheb ila Blede di Medina Miami Il Assayf alqadm Vorrei Ida ken tu vorresti Ida ken lui vorrebbe Ida ken noi vorremmo Ida ken voi vorresti Ida ken loro vorrebbero Benesbali talbi Hibit al psifaj diya Le mafar uina alqalam O istighdam alqalam O l'iada O l'qiraha O Hatta te ktib Ghaiban U chuf Kedilek L'hal U chuf L'sheriha Ok Due Un consiglio Usiamo Il Il Condizionale Semplice Per esprimere Un consiglio Esprimere Ano Un Abbar Alla Cosa vuol dire Un consiglio Nasiha Espresso preceduto Da Espresioni Come Al posto Tuvo Daiman Nama Tkun Ghaibana Nansiha Nansiha Ke Nasiha Jairit Nistaklu Makanha Au Fii Awell Jumla Al posto Tuvo Fii Kedilek Taabira Tania Sanna Raha Mshallah Au Qadda Tmora Al posto Tuvo Prendirei Una Billa Aspirina Aspirina E Andrei Ale To Fii Makanak Kunta Khaibana Habit Aspirina Wa Zhaabt Ila Asirir Hatti Hezi Ilverbo Andari Nel Condizionale Nacordo Andrei Bravi Tre Una Rijiesta Gentile Educata Jani Talab Muaddab Latif Gentile Talab Latif Educata Muaddab Una Rijiesta Hina Edu Educata Jani Bish Msharfa Maha Una Rijiesta Waxhan Kedakuna Educata Jani Muaddaba Lakin Hina Kifan Kul Una Rijiesta Bil Arbe Jad Muzhaka Sanna Kul Talab Latif Lakin Bail Iitalia Sanna Kul Una Rijiesta Gentile Educata Iitalia Muzhaka c'è anche da conne hena educata hnei anna gentile ti miscei ma il femminile o il maschile hnei anna una richiesta gentile fì ma'na hnei latifa abbiamo questo esempio apriresti la finestra per favore questo è il verbo aprire con chi? con tu hnei anna talab tariqa latifa ok apriresti la finestra lo tiftah il jubbeck lo samaht hnei anna staglu il condizionale semplice numero 4 un informazione incierta un informazione incierta hnei anna tkun anna maluma ma nish metakdin manha diciamo il prezidente della repubblica avrebbe firmato l'accordo il prezidente della repubblica avrebbe firmato l'accordo janii raiis il jubburiya qadwaka l'attifakia hnei avrebbe mosh mtakdin manha nish khbarr msh khnish difizion fad yikun janii ma'luoma mosh mtakdin manha l'attifakdin manha avrebbe firmato l'attifakdin manha avrebbe firmato l'attifakdin manha passiamo al quinto uso numero 5 lo vediamo insieme ok il modo condizionale serve ad esprimere anche jani hedal modo mkun jani ustakda jit tabir kadelik an anche kadelik 5 esprimere un dubbio jani tabir anciak in particolar modo con i verbi modali volere, potere, dovere jistakdam hedha hatta tabir ala shak ma'i verbi hedho ma modali li huma volere, potere, dovere volere yurir potere yestatia dovere yijibu kosa potremmo fare stasera? kosa potremmo fare stasera? ok jani ma'edic manha dubbio shak ok sei bax n'akedom vaat esempio un dubbio ahsene minheda sei affermare qualcosa in maniera piu delicata meno perontoria perentoria sei ta'abbara gan shay fi bittariqa hassessa shwaye bittariqa fiha shwaye tot ma fiha amro bethelen saarebbe meglio non disturbarlo ora sta riposando saarebbe meglio non disturbarlo ora sta riposando ma'edic maniera il verbu essere ma'edic maniera ma'edic maniera saarebbe meglio non disturbarlo non disturbarlo ok vaoi gi attizal methalan واحد yutub shaks utjau belwalda ou jau bel akht au zau jau utkulu minhah sany ma'edic maniera chan ma'edic maniera ma'edic maniera ma'edic maniera ma'edic maniera saarebbe meglio non disturbarlo ora ya'ni cano dc u cano ma'edic maniera bec l'autre star riposando gen si rtai dacordo passiamo a pra alla pratica. Abbiamo queste sei frasi. Riccardo, potere, tradurmi questa lettera inglese? Poi cambiate Riccardo con voi. Abbiamo tre. Signorina, il verbo potere, scrivere un'email di conferma al professor galente. Ok? Cinque, il tempo è cambiato, il verbo dovere, metterti qualcosa di più pesante. Non è un po' di nefso il jumla, è un po' di nefso il jumla, è un po' di nefso il jumla, è un po' di nefso il jumla. Riccardo, è un po' di nefso il jumla. Desserti questa lettera inglese quelle sono le le abbiamo, è un po' di nefso. Riccardo la faccio anche la tua, eccetera. Od che faccio l'encontrate a un video, avete un po' di lettera inglese. Se faccio il video, è un po' di far 750, è un po' di scoperta, è un po' di circa uncondiri, è un po' di apertura, o comunque non ti senti un po' di volte e un po' di per il coro, è un po' di Jewel e la faccio un po'. Anta ti senti Riccardo, potresti tradurmi questa lettera in inglese due? E' nebbis non gairo Riccardo con voi. Voi potresti profondamente. Vorrei potresti. Potresti, voi potreste tradurmi questa lettera in inglese? Bravo. Passiamo alla frase 3. Signorina, legno la forma di cortesia, il trongitzante la Cars. Potre, potre, potre ed è che non sincer Eli il segnelo le rifi insieme. Cosa diremo? Signorina, potrebbe, potrebbe, bravi, potrebbe scrivere un'email di conferma al professor galente? E nisa ti, o nisa, jimkino ki kitabet e-mail melmuefqa il professor galente, o stedismo galente, galante, not galente, galante. Gheiru, kinmet signorina, ptu, sa ta kun medha, bravi, tu potresti scrivere, tu potresti scrivere, un'email di conferma al professor galente, l'ahdo, signorina, tariqa rasmia, e fa'afrahan kalmo fi signorina, e ne anna, fa'afrahan kalmo fi signorina, e ne anna, fa'afrahan kalmo makentum, sanakullea, capitola. M'accordo? Potrebbe ne, potresti ne. Numero cinque, il tempo è cambiato, il verbo dovere, metterti qualcosa di piu pesante. Ma mi? Ma tu, l'eskian hiin anna, ti. Il tempo è cambiato, dovresti, dovresti metterti qualcosa di piu pesante. Il tempo è cambiato, dovresti metterti qualcosa di piu pesante. Allora, se volessi metterti qualcosa di piu pesante, ti dovresti metterti, qualcosa di piu pesante. Allora, il tempo è cambiato, dovremmo metterci qualcosa di piu pesante. Lo quonna dovremmo, يعni, se nada, futuro. Fek, lo quonna dovremmo, doppio M, se naku, minn mustahven anni, nada, o nilbis, haja, asfal, shwaye. Hina il pronome, ci. Munkun hottuha, zey ma quonna fi l'hala hezi. Kif tkun? Il tempo è cambiato, ci dovremmo mettere qualcosa di piu pesante. Ci dovremmo mettere qualcosa di piu pesante. Mosh, barch, nukti, bil, fulul, jani, chultuha, munkun d'argiungle l'aschiha, edha, mosh, kassalmini, walaken, hatta, tapu, shwaye, walao, kent, amda, alhaja, jani, n'hottuha, firasna, o menninsèha. D'accordo? Passiamo a. Un'altra pratica. Mi scusi, signora, il verbo sapere, dirmi dov'è l'ufficio del professor Rossi? Questa è la prima frase. La seconda. Buongiorno, il verbo volere, sapere a che ora parti il prossimo treno per Napoli. Tre. Ragazzi, se vedete Enrico, il verbo potere, dirgli che lo sto cercando. Quattro. Io so che Antonio, il verbo volere, passare le feste con la sua famiglia. Cinque. Guardandolo in faccia, sì, il verbo dire, che non ha dormito. Sei. Secondo il medico, non sì, il verbo trattare, di una semplice influenza, ma di qualcosa di più grave. Sì. 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 l'afora del condizionale simples. Ebbcia conience un po' di chiama' un po' di chiama'. Anche che faccio un po' di chiama' i video che ho fatto un po' di chiama' l'afora, che accro- gira e all'accompoon, ma continuava una nuova e per ciascarla. C'era un po' cheia e tutte queste cose, non è un po' di chiama' la mejor maniera. OK? La cazda che devo fare, che fanno fare un po' di chiama' la video, creare un po' diTSUT哪裡 che Cominciamo. Mi scusi signora, saprebbe dirmi il verbo sapere, con i verbi irregolari, non diremo saperebbe, ma diremo saprebbe, saprebbe dirmi dove è l'ufficio del professor Rossi. Questa è una frase, buongiorno. Questa è una frase, non ha mai mai più neò, io vorrei sapere, quale essere una parte del prossimo treno per Napoli. buongiorno, wadha, non c'è un chè che si t'kellam e ha avuto il maggiore vorrei vorrei sapere vorrei wadha con io non c'è un chè che c'è io buongiorno vorrei sapere che ora parte il prossimo treno per Napoli ok questo è tutto perché usiamo questo questa è una richiesta questa è una richiesta tre ragazzi se vedete Enrico dirgli con ragazzi con voi potreste 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 con tu ragazzi se vedete Enrico potreste dirgli dire a Enrico pronome indiretto potreste dirgli che lo sto cercando che si vedete che se vedete se vedete Ida ken entum txufu Enrico Ok vedete il verbo vedere con voi Fahimna? Dake ida ken Il jumri hedi mafieh Mux moruda Macalane ragazzi Potresti dire a Enrico Che lo sto chercando Hmm? La quattro come la notar la aedi Se vedete Enrico Fahne li toda alla a lui A Enrico Fahne ragazzi Potresti dire a Enrico Che lo sto chercando Fahimna hiya Con doro Convoy Lama kandhani ana vedete O kulturukum loo tolrena Hiasi vedete Kifahish na'arfu Echna n'kailmuhu Fragazzi Ayuwa Bihadhi lfasla Lau kandkailmuhu Ala la aulad Benkun Nusarfu Ma loro Laken Hade La virgola Hadehia Dulla Yaxna Maha Vod Nukhati Fih An Aulad Hadeh Mula Hadeh Mula Hadeh 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 Pronomen Munkun Munkun Hottuh Qabli Fihal Hottuh Baad Fihal Dacordo Abda Hottuh Hottuh Hadeh Co lo sto cercando e lo sto cercando, lo sto cercando? D'accordo? Siamociare le relazioni, se potranno tutte le relazioni. questo è il pronome, può essere qui, per questo, è il pronome, potrebbe essere qui, potrebbe essere qui. Questa è la frase 4. Io so che Antonio passare le feste con la sua famiglia. io so che Antonio vorrebbe passare le feste con la sua famiglia. Io so che Antonio e suo fratello vorrebbero passare le feste con la loro famiglia. Io so che Antonio e il suo amico vorrebbero passare le feste con le loro famiglie. Io so che voi vorrebbero passare le feste con la tua famiglia. Io so che voi vorrebbero passare le feste con le vostre famiglia. Io so che voglio passare le feste con le vostre famiglia. Io so che voglio passare le feste con le vostre famiglia. Io so che voglio passare le feste con le vostre famiglia. Io so che voglio passare le feste con le vostre famiglia. Secondo il medico non si trattare di una semplice influenza. Alla chassb attività. 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 Un. Un. Min al muham. Min al khatir. Ma'ami. Non sento che fa? Un. 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 Secondo il medico. Non si tratterebbe il verbo in are o spach e o spach e o spach e. Secondo il medico non si tratterebbe di una semplice influenza. Influenza basita ma di qualcosa di più grave. Grazie a tutti. 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 Che cosa esprime questa frase? Che cosa esprime? Che cosa esprime? Che esprime? Questi esercizi sono troppo difficili. Non so se... non so se... potrebbero fare... che esprime... che si susseguono... il secondo si mette... il secondo si mette all'infinito... che esprime... che... che esprime... 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 che... che esprime... che... che esprime... che esprime... Grazie mille e alla prossima lezione. Grazie mille e alla prossima.